Nel 2014, all'interno della Casa delle Donne di Ravenna, è nata una scuola di politica a radice femminile, condotta da un gruppo di donne come gruppo politico socio della casa. Il gruppo di politica si chiama Preziose di Ravenna. Si fanno promotrici del ciclo Le Donne Pensano. Genealogie, che partirà il 1 aprile alle ore 14.30 all'Iceo Classico Dante Alighieri. Gli incontri saranno quattro, fino al 29 aprile. Tutti sotto la docenza della professoressa e filosofa Anna Rosa Buttarelli. L'Accademia Le Donne Pensano Genealogie fa parte di un progetto formativo triennale di cui Genealogie è il primo corso. Genealogie significa che attraverso studi femminili e femministi si è scoperto che ci sono delle tracce comuni di pensiero di donne scrittrici e pensatrici che hanno lavorato e pensato e scritto in secoli differenti, eppure c'è come un richiamo fra di loro. Questa iniziativa è stata pensata per le scuole superiori. Avrà una partecipazione importante di insegnanti per la loro formazione. Per gli insegnanti che si sono iscritti a questa accademia saranno riconosciuti dei crediti formativi. Ma è anche un'iniziativa aperta alla cittadinanza e agli studenti. Perché queste accademie sono state pensate dalla scuola di alta formazione per donne di governo come una dislocazione territoriale itenerante del sapere di alta formazione delle donne aperta a tutti a partire dai 14 anni sia per donne che per uomini. È un'accademia gratuita perché abbiamo avuto la collaborazione e il sostegno della Comune di Ravenna assessorato alle politiche e alla cultura di genere, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e anche la collaborazione della preside professoressa Giuseppina Di Massa, dirigente del liceo di Lugo e del classico di Ravenna. La scuola di alta formazione prenderà avvio nel 2020. Qual è l'organizzazione? Intanto la scuola di alta formazione è sostenuta da una fondazione che porta lo stesso nome. La fondazione è nata il 10 aprile 2018 a Mantua ed è stata registrata ufficialmente in agosto, sempre del 2018. Gli insegnanti di questa scuola saranno filosofe, saranno mediche, competenti nei vari settori del sapere. Ma non è escluso che ci siano anche uomini se questi uomini hanno fatto un percorso di autocoscienza sulla differenza sessuale. Chi può iscriversi a questa scuola? Diciamo tutte le donne e gli uomini laureati perché è una formazione post laurea. La sede di questa scuola probabilmente sono due le sedi, le stiamo ancora contattando ma siamo a buon punto. Una è a Roma, sarà a Roma e una sarà a Mestre Venezia perché oggi abbiamo sentito questa esigenza di creare una scuola di alta formazione per donne di governo perché c'è un forte protagonismo femminile sulla scena del mondo che ha bisogno di punti di riferimento e di orientamento. Che abbiano una radice di sapere e di esperienza femminile. Questo sapere e questa esperienza femminile ha ormai costituito una forma mentis, una forma mentis che si rende sovrana perché si sottrae a quella patriarcale. Gli obiettivi più specifici e più salienti sono tre e sono i seguenti. Dotare di una formazione professionale, amministrativa e politica chi vuole accedere a posti pubblici e anche privati evitando l'inclusione neutralizzante. Creare le condizioni perché la differente sapienza delle donne aiuti a generare nella società nuove istituzioni per la convivenza. Costituire un laboratorio permanente di incontro, discussione e registrazione storica di esperienze pratiche di donne di tutto il mondo.